In seconda fila, 8, Ogmo Moscio, Alessandro Muretti, 9, Nadine B, Edoardo Moni, 10, Noodles BF, Massimo Barbini. Questo è il campo partenti, la macchina che ha completato la curva di sinistra, l'allineamento è più che discreto, diciamo discreto. Quindi all'esterno non partono un granché, mentre è molto veloce Orione Trio che scavalca My Flower a largo onda gigante, più all'esterno ombra del vento dalla seconda fila Ogmo Moscio. I primi 200 metri di Orione Trio in 14, sbaglia Ogmo Moscio, onda gigante può parcheggiare in terza posizione la scia di My Flower. Resta scoperta a largo ombra del vento seguita da Odissea Grimm, i cavalli si presentano al passaggio di fronte alle tribune con 400 iniziali in 30, Orione, ombra a largo, in corda My Flower a largo di Sea, poi onda gigante e Nadine B. Ancora Mozart, Rivalco e Noodles BF, in segue Opalin B, i primi 600 in 45 e mezzo, gruppo disposto in doppia fila lungo l'arco e la penultima curva, è sempre Orione Trio che scandisce la cadenza, ombra del vento all'esterno in corda, My Flower a largo di Sea, poi onda gigante, all'esterno Nadine, chiudono in coppia Mozart e Noodles, 800 in un minuto e cinque decimi sul mio cronometro, sulla retta opposta alle tribune, ombra del vento va ad incalzare Orione Trio, i due apparegliati su My Flower e Odissea Grimm, onda gigante e Nadine B. 500 metri al termine, 16, molto scarso per il primo chilometro, Orione alla corda, ombra del vento all'esterno, Odissea a contatto, My Flower lungo lo steccato, seguita da onda gigante che ha all'esterno Nadine B. Siamo a metà della piegata conclusiva con Orione in vantaggio, lo scatto in terza di Odissea che va ad incalzare ombra del vento lungo la corda My Flower che sbaglia, poi onda gigante, la retta di arrivo, Orione, ombra che attacca a centropista, scatta Odissea, seguita da Nadine B. Orione, Odissea che passa a 80 dal palo, Odissea. Odissea Grimm che viene a vincere netta, per il secondo Nadine probabilmente la spunta su Orione, poi ombra in linea con Onda. La vittoria per Odissea Grimm che conferma la buona sgambatura sostenuta prima dell'inizio del convegno, in Salchi Enrico Bellei, il training di Alessandro Gocciadoro, i colori del signor Samuele Caporali Zignani. La quota al totalizzatore 2,78, mentre il tempo al chilometro deve essere intorno all'1,15 e mezzo.